Milano e siamo punto a capo con l'Inter che vince 3 a 0 il derby e poi riesce a perdere in casa con l'Empoli 1 a 0 e qualcuno si è stupito io non mi sono stupito troppo e vi spiego perché perché l'Inter ha approcciato in maniera simile col Verona col Monza a Monza e quindi col Verona è venuta fuori una vittoria risicata col Monza sarebbe stata una vittoria risicata che poi l'arbitro ha deciso di convertire in un pareggio e con l'Empoli è arrivata la sconfitta tanto per cominciare la formazione iniziale non mi è piaciuta perché sappiamo che si gioca una volta ogni tre giorni e allora io mi domando ma perché Di Marco e non Gosens visto che si tratta di Inter e Empoli ma perché perché c'è la Noglu e non Aslani che affrontava con molta motivazione la squadra che l'ha lanciato e soprattutto perché devo vedere giocare Correa che non è un giocatore di calcio cioè fa finta lui di giocare a calcio non ci mette un minimo di grinta è completamente inutile quando la palla ce l'hanno gli altri e poco utile quando la palla ce l'ha l'Inter è un giocatore veramente non lo so cosa ci vuoi fare con Correa qual è l'utilità metterlo quando mancano 20 minuti se stai vincendo per magari sfruttarne la velocità se proprio devi ecco quindi questo non ho capito io avrei messo Lukaku dall'inizio e gli avrei fatto fare una staffetta con Geko e poi avrei fatto gli altri cambi che che ho spiegato bisogna dire che si sono un po allineati i pianeti come come dice sempre un mio amico perché perché l'Inter si avviava comunque secondo me a portare a casa una partita in maniera molto simile a Inter Verona io penso che sarebbe arrivato comunque il guizzo di qualcuno anche in un primo tempo dove comunque ha fatto meglio l'Empoli di fatto poi l'Inter ha avuto un paio di palle gol un paio di tiri di Di Marco così io immaginavo nel secondo tempo potesse venire fuori qualcosa però non ti aspetti che Skriniar faccia una vaccata del genere anche se diciamolo il secondo giallo è stato veramente fiscale perché un giocatore già ammonito va a fare un intervento che tutto sommato non è che sia poi questo questo intervento così da giallo ecco si può dare come non dare e a quel punto uno dice se il giocatore già ammonito per una roba del genere cioè il secondo giallo ok non so un fallo tattico oppure una scarpata vabbè comunque diciamo che ci può stare se appena appena possono gli arbitri evitano evitano di prendere una decisione a favore dell'Inter se c'è la possibilità di prenderla a favore di qualcun altro tranquilli che arriva a favore di qualcun altro e l'abbiamo visto anche in altre decisioni dell'arbitro di Inter Empoli perché comunque sia è stato fiscale si è messo lì per fare per fare innervosire bastoni barella che poi barella tra l'altro ha preso un giallo anche lui adesso sarà squalificato oltre a Skriniar sarà squalificato anche barella quindi in un colpo solo oltre a perdere la partita ci siamo creati un problema anche per la prossima di partita perché dovremo sostituire barella e Skriniar perché comunque saranno squalificati quindi ancora una volta complimenti all'arbitro che è stato coperto di fischi a San Siro e ha fatto il pignolo proprio per fare innervosire i giocatori dell'Inter detto questo non posso venirvi a raccontare che per colpa dell'arbitro l'Inter ha perso la partita ve l'ho detto la partita ha persa perché perché te la giochi in dieci allora approccio sbagliato formazione sbagliata te la giochi in dieci squadra già abbastanza diciamo stanca dai continui impegni poi la Supercoppa oltretutto si è giocata anche a Riad quindi il Milan ha avuto un giorno di riposo in più e giocherà oggi mentre invece l'Inter è arrivata più stanca e senza fare questi cambi tipo quello di Aslani insomma quello che avevo detto all'inizio di questo video chiaramente è diventato ancora più un problema dovendotela giocare in dieci ma io voglio dire in nove perché in dieci abbiamo cominciato perché giocare con Correa e giocare in dieci poi visto che non era sufficiente abbiamo imbroccato anche la giornata negativa di Onana che fino ad oggi tutto sommato non aveva fatto degli errori e qui però insomma il tiro di Baldanzi è decisamente parabile quindi non bene Onana bisogna dargli anche la possibilità di sbagliare peccato poteva venire sul 3-0 per l'Inter un errore del genere di Onana e invece è capitato nel momento sbagliato ed è costato resto convinto del fatto che se avessimo avuto Onana in porta da inizio campionato non avremmo avuto adesso 13 punti di ritardo sul Napoli nonostante l'errore di Onana chiusa parentesi e di altro da dirvi sinceramente a Dunfries ecco non ho detto niente su Dunfries l'Inter ha cominciato con con Darmian anche lui abbastanza stanco e non con Dunfries che ha già riposato un paio di partite e addirittura nel momento in cui si è reso necessario il cambio è entrato Bellanova che purtroppo non è un fenomeno sicuramente però anche lui ha imbroccato la partita sbagliata perché non se l'è fatta un po addosso diciamo la verità non puntava mai non puntava mai il diretto avversario nonostante lui sia il giocatore più veloce in assoluto dell'Inter e forse anche direi della Serie A uno dei più veloci sicuramente però sempre timoroso la palla quando passava da lui tornava sempre indietro qualche volta addirittura da Onana poi vabbè San Siro l'ha coperto di fischi come come si usa fare come secondo me non si deve fare perché non conviene non conviene se sei tifoso dell'Inter non conviene fischiare i giocatori dell'Inter finché in campo si sostiene quando finisce la partita puoi fischiare puoi fare quello che vuoi però durante la partita si sostengono i giocatori quindi Bellanova pessima partita il pubblico che l'ha fischiato peggio ancora ok anche questo volevo dire e poi sul discorso Dumfries secondo me Dumfries sul mercato cioè sul mercato più che altro lo stanno vendendo a Chelsea immagino altrimenti non so perché non impiegarlo non ci vedo nessuna logica proprio in questo quindi Dumfries praticamente come non averlo Lukaku è fermo da cinque mesi praticamente non c'è mai stato e che altri? Skriniar ha giocato insomma non troppo concentrato Gagliardini ha detto che se ne vuole andare io l'avrei anche multato dopo quell'intervista tra parentesi e quindi io mi domando ed è strano che l'Inter abbia abbia poi perso la partita sì è strano che abbia perso la partita non è strano che abbia approcciato male e ho già detto 850 motivi cosa devo aggiungere ancora quindi direi che il video può finire qui un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi